Salve, vi presento il nuovo caricatore frontale FLC. Il nostro nuovo caricatore frontale ha le caratteristiche principali dei predecessori e il suo design innovativo offre un'eccellente visibilità anteriore. L'offerta di prodotti comprende sei diversi modelli, dall'FL40C con altezza di sollevamento di 3,5 metri all'FL140C con altezza di sollevamento di 4,5 metri. Osserviamo meglio le caratteristiche principali del caricatore frontale. La prima caratteristica del nostro nuovo caricatore frontale FLC è il doppio angolo del braccio che insieme al sistema di autolivellamento meccanico integrato assicura un'ottima visibilità anteriore. Il design è collegato al cofano motore così da avere un caricatore frontale di bell'aspetto che si adatta al trattore. La seconda caratteristica è il nuovo montante anteriore. Siamo riusciti ad abbassare il montante anteriore di 10 centimetri in più rispetto al suolo, così da avere una visibilità ancora migliore. La qualità costruttiva dei bracci di sollevamento, progettati per lavori duri e intensi, è il segno distintivo dei nostri caricatori frontali Klaas. Tutti i tubi idraulici ed elettrici sono coperti e integrati nel braccio e sono protetti. Con il sistema MAC, con una sola maniglia, si possono collegare tutte le funzioni elettriche e idrauliche al trattore. Il sistema FitLock collega il trattore al caricatore frontale. Per montare l'implemento sul caricatore frontale, si può utilizzare la funzione di bloccaggio meccanico automatico, oppure il bloccaggio idraulico FastLock. Per collegare la terza e la quarta funzione al caricatore frontale, si può utilizzare il noto sistema MAC 2. Per montare e smontare l'implemento in modo ancora più semplice, è ora disponibile anche la leva di scarico della pressione direttamente sul montante. Per aumentare ulteriormente la produttività del carico con questo caricatore frontale, ci sono le luci LED che illuminano l'area di lavoro del caricatore frontale. Per una maggiore produttività del carico con il caricatore frontale, ora c'è il rientro automatico della pala per riportarla in posizione orizzontale dopo il ribaltamento. I vantaggi dell'FLC possono essere riassunti in quattro punti. Primo, l'impressionante visibilità grazie al design innovativo. Secondo, la stabilità grazie alla qualità di lavorazione. Terzo, il maggior tempo di lavoro grazie al rientro automatico della pala. E quarto, il minor tempo di fermo grazie al cambio rapido degli utensili. Con l'FLC tutto è davvero sotto controllo.